Il gruppo di azione locale Dauno Ofantino lo ribadisce, quella del carciofo e del prodotto ortofrutticolo di San Ferdinando di Puglia non è una sagra di paese, bensì una fiera nazionale, giunta quest'anno alla sua 55esima edizione, ragion per cui la sua organizzazione deve essere all'altezza della situazione. Arriveranno, è la promessa del presidente del Gala, gli imprenditori del territorio, Bayer anche da altri paesi esteri. La manifestazione, in programma dal 5 all'8 novembre prossimi, sarà luogo di scambio di informazioni, motivo di rilancio dell'economia di questa parte di Puglia, punto di partenza all'esperienza di Expo 2015. Noi ci immaginiamo e speriamo una fiera dove l'importanza degli operatori a esporre questi prodotti che San Ferdinando, le pesche a parte il carciofo, possano poi divulgare in tutto il territorio nazionale e internazionale le loro capacità anche a produrre e anche a commercializzare. Dico anche che noi adesso staremo come siamo stati in Olanda, siamo stati a Bruxelles perché noi abbiamo dei progetti di cooperazione che ci consentono appunto di fare uno scambio con altri operatori di altre nazioni europee.